Non si fuma nella stanza del bambino. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare pensiero, allucinazione, forse sogno. In questo assurdo, chiamiamolo così, mondo, in questa luce, si potrebbe dire morbida, lenzuola rosa, azzurre, senza mai rompere, certo, la tradizione, sì, la culla, apine, farfalline, farfalline, come dire il festival, sì, del Giappone, e poi ciucci, tettarelle, pelus, i pelus, e il latte, l'odorino, il vasino, la cacca, che in genere fa, diciamo così, schifo, ipotesi cancellata, meravigliosa, morbida, giallina. Complimenti. Rieccolo la stanza, sì, del bambino, sempre uguale, no, diversa, un lettino, con le sbarre, certo, movibili, un girello, un passeggino, due passeggini, non si sa mai, la carrozzina, già è vero, la carrozzina, cabriolet, ipotesi cancellata, ombrellino, cappottino, salopette, scarpette numero 25, 26, 27, si tiene tutto, può venire buono, non si sa mai, e poi tutte, tutine, con minni, con pluto, topolino, Ronaldo, Ronaldo, e poi casine, castelli, fortini, soldatini, e puzzle, 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 voglio dire puzzle, 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 e poi la stanza, del bambino, certo, invasione, i parenti, i zii, i cugini, i cugini dei cugini, senza offesa, mai visti, ammicamenti, paroline, risatine, smorche, scimmiesche, del bambino, ipotesi cancellata, degli adulti, vocine strane, affettate, anche il nonno, diciamo così, vecchio stile, si, il notaio, cip, 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 pio, 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 la bocchina, si, a culo, per racchietta, per racchietta, s'avvicina, ha detto mamma, ha detto mamma, ipotesi cancellata, ha detto, wow, wow, geniale. E poi ancora la stanza, sì, del bambino, cambiata, certo, col tempo, giochi, giochini, un mese, una settimana, il giorno dopo, già scordati, abbandonati, una montagna, voglio dire, un cimitero, braccia, gambe, calpestate, diciamo così, mai più usate, inutili, disgustose, sazietà, opulenza, nausea, sì, chiamiamola proprio così, nausea. Ecco, probabilmente si potrebbe immaginare, pensiero, all'ulfinazione, forse sogno, con questo assurdo, chiamiamola così, mondo, lampo improvviso, canzone, gioco di bambini, oggetti, oggettini rifiutati, sì, con violenza, grande fuoco, incendio, sì, doloso, in questo lurido, chiamiamola così, mondo, grande fuoco, grande fuoco, incendio, gioco di bambini, intuizione precoce, purificazione, situazione mondo, certo, immaginiamo, tutta quella roba che brucia, che brucia, che brucia, fazzoletti, padronini, omogenizzati, pupazzi, pupazzetti, trenini, carrozzine, barbi, mazinga, altri mostri, certo, un sogno meraviglioso, impossibile, mai sognato, tutto qui, invasione, macchinine, pile, luci, suonini, cani, gatti, coniglietti, coccodrillini, robottini, e ancora barbi, barbi che lava, che stira, che si sfoglia, barbi che piscia, che caga, e spade, colazze, razzi, calastrino, che sparrano, uscite, uscruccano, e mostri, mostri orventi, lucidi, argentati, spaventosi, e tutta, 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 quella valanga di merda che farebbe diventare, diciamo così, impecinde, anche il giovane Albert Einstein. Però non si fuma nella stanza del bambino.